mi avete chiamato eccomi qua mi avete chiamato eccomi qua mi stavate aspettando eccomi qua ecco naturalmente chiavic lo sanno gli amici pugliesi che grandi totiettata mi stavate aspettando vero eccomi qua ho perso signori ho perso si vince e si perde l'importante è metterci la faccia sempre nel bene e nel male manchester united fuori dalla champions atletico avanti devo dire la verità anche meritatamente perché si oggi la partita è stata più equilibrata però si vedeva che l'atletico era più ficcante il manchester giocava giocava ma non non quagliava mai praticamente all'andata c'è stata una partita a senso unico pareggiate in extremis da questo ragazzo e l'anga niente dopo messi va fuori anche i cr7 come anche lo scorso anno entrambi andarono fuori agli ottavi Alan è andato fuori ai gironi Mbappé è andato anche fuori sono rimasti Lewandowski e Benzema però adesso voglio parlare del mio Manchester United squadra inglese per la quale la squadra che diciamo che ma mi ha fatto innamorare della Premier League il grande Manchester United dei ragazzi del 92 Beckham Scholes Giggs Roy Keane Teddy Sheringham York York Solskjaer allenatore ora io non cerco alibi non cerco alibi anche perché c'è poco da cercare alibi io avevo pronosticato il Manchester United a inizio stagione vincitore della Champions League anche per perché c'era in panchina Solskjaer ora magari non sarà mai un tecnico di quelli però è un tecnico che era un tecnico che conosceva l'ambiente era un tecnico che conosceva l'ambiente ho continuato a sostenere il Manchester United vincitore della Coppa perché si via Solskjaer c'è Stora Anglic qua che a me sinceramente non mi ha mai convinto neanche in Bundesliga figuriamoci figuriamoci in Premier alla guida dello United poi ero convinto che a un certo punto anche per fare un gran canto del cigno Cristiano avesse preso avesse preso prima o poi in mano la squadra e l'avesse trascinata da par suo alla conquista di questa ennesima Coppa Campioni mi sbagliavo ho sbagliato cioè non ci ho preso non ci ho preso nulla da nessun dramma si vince si perde è è una squadra che non è una squadra è una squadra che ha bisogno storicamente di un papà più che un allenatore come ma è nella storia del Manchester United come lo sono stati Matt Busby negli anni 60 e il grande Sir Alex Ferguson uno dei 4-5 migliori allenatori della storia a questo punto insieme a Michels insieme a Apple insieme a Guardiola attualmente insieme a Sacchi Murigno Trapattoni Lippi Del Bosche nella top 10 di sempre forse tra i primi tre tra i più grandi tecnici di sempre si ragazzi si è una squadra che non è una squadra il fatto che io avessi pronosticato il Manchester United vincitore della Champions League lo avevo fatto anche alla luce del fatto che signori ora provate assilare la miglior formazione schierabile la Manchester United signori questi a parte Cristiano hanno Rashford hanno Pogba hanno Maguire anche se su Maguire c'è da fare un lungo discorso hanno De Gea De Gea che è il classico portiere che ti può far vincere una coppa perché è il classico portiere che ti può fare la cagata come ti può diventare la sala cinesca io ho visto fare parate assurde e papere assurde a De Gea poi comunque Maguire si non sarà è chiaro non sarà Nesta o Cannavaro però ha un difensore che ha una certa personalità attenzione Maguire ha pagato 80 milioni di sterlino giù di lì io penso che Skriniar e De Vrij se non sono meglio poco ci manca no Skriniar e Bastoni se non sono meglio poco ci manca per me anche De Ligt si avvia a essere meglio di lui De Ligt ha altre lacune secondo me perché De Ligt è più un similstam che un un simil Kroll diciamo parlando di grandi difensori olandesi Kroll era fantastico tecnicamente aveva una classe cioè un maldini antelitter a Mera Kroll praticamente Kroll era fantastico Stamm era un colosso insuperabile fisicamente dalla potenza spropositata è un grandissimo difensore anche lui ecco De Ligt è più o meno su quella strada lì Maguire Maguire Donè chiudi la porta mio figlio mio figlio che ride vestito di rosso nero come Manchester United stavo dicendo chiudi la porta per favore in pratica questo Manchester United che non è una squadra hanno Cavani è vero avanti con l'età ma è pur sempre un signore attaccante Bruno Fernandes dove pecca forse sulle fasce ecco e lì forse si spiega voi mi direte ma come le fasce non è che è lì il problema ascoltate io dico sempre che ogni squadra ha un DNA allora il Manchester United degli anni 60 dove era forte c'aveva due ali uno che era Dennis Lowe ex Torino che era una grande ala e poi aveva aveva quello che per me sarebbe stato ai livelli di Maradona se non si fosse attaccata alla bottiglia che era George Best alle ali cioè la maglia numero 7 la fascia destra ma in genere il gioco sulle fasce è un qualcosa di iconico nella storia del Manchester United poi negli anni 90 ragazzi chi non si è entusiasmato a vedere quei due Beckham e Giggs a destra a sinistra proprio sciorinare calcio veramente specialmente Giggs specialmente Giggs un giocatore tra i più sottovalutati della storia del calcio tra i più sottovalutati della storia del calcio Ryan Giggs un giocatore semplicemente fantastico anche Beckham era un gran giocatore un gran professionista signori ma Giggs era il calcio Giggs era il calcio è stato un solco che è continuato che è continuato affinché è durato Ferguson perché Ferguson guardate da meraviglioso come dico sempre da meraviglioso allenatore che era via Beckham acquistano questo 18enne portoghese questo 18enne portoghese Cristiano Ronaldo quale sostituto di David Beckham io ho più e più volte detto seguendo da parecchio la Premier League che il Cristiano Ronaldo che arriva a Manchester è praticamente la controfigura era praticamente la controfigura con le mesh di Lentini i milanisti forse ricorderanno Lentini gran giocatore con grande tecnica individuale ma che la porta non la vedeva questo era Cristiano Ronaldo solo che Cristiano Ronaldo era un po' più come devo dire appariscente con queste sue tentativi di doppio passo che quasi mai arrivavano a conclusione dove fu la grande intuizione di Ferguson dove fu la grande intuizione di Ferguson a parte che ci fu l'accessione di Van Nistel Roy nel 2006 perché fino al 2006 Cristiano Ronaldo si era un giocatore di talento ma come ce n'erano giovani giovani di talento come ce n'erano stati tanti Cristiano Ronaldo diventa il crack che conosciamo quando va via Van Nistel Roy dalle United col solo Rune in avanti lui che fa lui che fa piglia dal PSV a Eindhoven un altro giocatore sotto non a certi vivelli un altro ottimo giocatore che era Park Ji-sung lo mette sulla destra e avanza Cristiano Ronaldo trasformandolo in quel micidiale bomber in quel micidiale bomber che è sempre stato cioè dove era la grandezza di Alex Ferguson siamo nel 2006 c'era stata poi la polemica in Inghilterra contro Cristiano Ronaldo quell'anno lì perché c'era stato il quarto di finale del mondiale fra Inghilterra e Portogallo vinse il Portogallo ai rigori dove Runei fu espulso fu espulso non mi ricordo per cosa con Cristiano Ronaldo suo compagno di squadra che a gran voce invocava l'espulsione del suo avversario che è compagno di squadra dello United e Cristiano Ronaldo non se la passò bene i primi mesi della stagione 2006-2007 quindi era un giocatore talentuoso ma nulla più quello che aveva finito il mondiale 2006 poi c'è la grandezza di Alex Ferguson che in un anno porta Cristiano Ronaldo dal dall'essere un giocatore talentuoso a vice pallone d'oro nel 2007 vince l'HK a pallone d'oro l'anno dopo fino a diventare l'alter ego di Messi il grande rivale di Messi e qui c'è la grandezza di Alex Ferguson perché lui non ha adattato la squadra al giocatore ha adattato il giocatore alla squadra non snaturando tornando al discorso di prima non snaturando l'anima il DNA del Manchester United via lui è stato un disastro un disastro dopo l'altro hanno fallito tutti 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 col senno di poi sapete che c'è lui fu cacciato a furor di popolo anche perché venne subito dopo Ferguson col senno di poi a questo punto io avrei tenuto David Moyes col senno di poi perché una stagione no ci può anche stare le hanno avute tutte le grandi squadre l'ha avuta il Chelsea con Mourinho e Mourinho al Chelsea era un'istituzione l'ha avuta Sacchi al Milan che è arrivato dodicesimo Sacchi quando è tornato la seconda volta al Milan lo stesso capello ha fatto cagare quando è tornato ci sta ci sta perché non dare una chance in genere in Inghilterra sono molto resti al licenziale delle naturi però lì secondo me David Moyes ebbe il torto di arrivare dopo Ferguson perché perché dico questo perché lui bene o male avrebbe continuato nel solco della tradizione del Manchester United che la tradizione del Manchester United è 4-4-2 all'inglese con due ali due punte fisse due centrocampisti di lotta e di governo come erano Keane e Scholes una difesa due terzini che scendono due centrali rocciosi un bravissimo portiere questo è sempre stato il Manchester United chi è venuto dopo Ferguson lo ha snaturato e allora tornando al discorso iniziale perché avevo pronosticato avevo pronosticato lo United vincitore della Champions League perché come è capitato per Di Matteo al Chelsea come è capitato per Hansi Flick al Bayern che ci trovo per caso a vincere quella Champions è come per Di Matteo un sostituto che andò al posto del tanto celebrato Villas Boas ma qual era la differenza Di Matteo conosceva l'ambiente Chelsea e l'ha portato dove l'ha portato perché a volte si vince anche così Solskjaer conoscendo avrebbe potuto continuare nel solco di Alex Ferguson tanto è vero che da quando non c'è più lui Sir Alex difficilmente lo si vede in tribuna a Old Trafford ed ecco un po' come sono andate le cose un peccato una squadra così gloriosa una squadra che ha affascinato generazioni e generazioni di sportivi che ha visto tanti campioni iconici la maglia la numero 7 del Manchester United è iconica è iconica cioè George Best Jesper Olsen Eric Cantona prima ancora Lee Sharp Lee Sharp aveva no no mi sto sbagliando poi Cristiano Ronaldo prima ancora Beckham cioè prima di quest'anno mi sapete dire chi indossava la 7 allo United cioè signori la maglia numero 7 allo United è come la maglia numero 10 al Barcellona o al Napoli cioè è un qualcosa di leggendario di leggendario è l'identità di una squadra io sarei anche contrario a ritirare le maglie perché le squadre hanno un'identità e questa identità è quella che ti fa vincere è quella che ti porta a vincere i trofei è quella che ti porta nella leggenda se tu mi snaturi l'identità non vinci ed è quello che accade allo United dall'estate del 2013 si hanno vinto l'Europa League col Murigno ma francamente non avevano avversari non avevano avversari cioè l'hanno vinta in finale con l'Ajax ai 18 anni già già con l'Ajax i due anni dopo sarebbe stata molto più difficile e noi ne sappiamo qualcosa e ho perso e ho perso per tutte queste ragioni qua no per queste ragioni non sono ragioni è un'analisi come dice il signor Lele Adani bisogna fare l'analisi e noi l'analisi facciamo a proposito di Ajax è andato fuori anche l'Ajax con il Benfica Benfica che naturalmente sarà la preda maggiormente ambita da chi andrà ai quarti di finale speriamo anche la Juve domani domani è un'altra domani è un'altra sofferenza ne sono sicuro domani è dura domani è molto dura anche se penso che alla fine ce la faremo iscrivetevi al canale